segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te sta parlando del si preannuncia un insuccesso per impegno civico in particolare lei sta menzionando il collegio di luigi di maio ma io voglio dire per luigi di maio e per gli altri che erano candidati con impegno civico io preferisco ricordare le battaglie che abbiamo fatto insieme preferisco ricordare tanto impegno tanta determinazione ci abbiamo messo per realizzare l'80 per cento del programma nella scorsa legislatura ecco vorrei rimanere a questo ricordo poi l'ho già detto anche dal palco nel nell'intervento finale a chiusura della nostra campagna elettorale noi comunque auguriamo buona fortuna anche ai compagni di percorso che ci hanno lasciato presidente presidente e i